Presentata alla Terrazza Rarini di Lungarno Ferrucci la seconda edizione di Trofeo Nazionale Nuoto Città di Firenze dal 27 al 28 ottobre in un appuntamento da non perdere alla piscina Nannini Bella Riva di Firenze. Questo fine settimana a Bella Riva con 650 atleti, sono 30 atleti in più addirittura della precedente edizione che provengono da 12 regioni italiane appartenendo a oltre 60 società. Ci sono presenti in vasca oltre 50 medaglie internazionali delle quali fra l'altro 4 medaglie dei ragazzi che l'hanno ottenuta alle Olimpiadi, quindi una manifestazione di grande rilievo. Bella Riva è un impianto che utilizzo quasi durante tutto l'anno, è bello vedere che sia protagonista di un evento nazionale dove tutti gli atleti possono venire qui e confrontarsi tra di loro. E' molto bello, molto contento perché finalmente abbiamo riuscito a dare spazio anche a questo impianto. La seconda edizione di questo trofeo nazionale vede protagonista la città di Firenze, tu giochi in casa ma insomma la pressione comunque c'è nella confrontarti con tanti tuoi colleghi a livello nazionale. Sì sì, è sempre un piacere gareggiare qui in casa, è la seconda edizione quindi è importante dare continuità a questo meeting. La piscina è storica, è in riva all'Arno quindi sono contento di poter gareggiare di nuovo qui nella mia città. Come stanno procedendo gli allenamenti per Matteo Restivo? Molto bene in realtà, nonostante l'età avanzi perché mi sto avvicinando pericolosamente ai 30 anni, i passi in allenamento sono tra i migliori di sempre quindi mi sento di dire di aver trovato una seconda giovinezza, grandi motivazioni. Abbiamo un bellissimo gruppo con anche Lorenzo Zazzari, Filippo Megli e gli altri atleti che sono venuti da un po' da tutta Italia per allenarsi con noi quindi la motivazione è alta, lo spirito pure quindi vedremo di non tradire le aspettative. I allenamenti vanno bene, sono tornato ieri sera da Budapest, ho finito con l'allenamento infatti sono stanco morto però sì la preparazione sta andando avanti nel migliore dei modi in previsione olimpica. Un trofeo questo che rappresenta già un unicum a livello nazionale e il protagonista quindi è la città di Firenze. Beh quest'anno oltretutto questo è il primo torneo che è in preparazione per un anno particolarmente impegnativo perché oltre i campionati italiani quest'anno avremo i campionati europei, i campionati del mondo, l'internazionale di Roma del Sette Colli che sarà l'ultima gara per avere i tempi per proprio partecipare alle Olimpiadi di luglio a Parigi. Quindi è un inizio col botto.